Ok ragazzi, devo fare questo video veloce per spiegarvi una cosa, è successo un problema con i link, ovvero sotto in descrizione, quello del canale e di Facebook, non so per quale motivo, adesso mi dice che non esistono, quindi se nei precedenti video andate a cliccare e non trovate il link giusto, non vi preoccupate perché sto cercando di sistemare la cosa, quindi non so per quale cazzo di motivo YouTube adesso gli ho detto, è venuta la idea geniale di fottermi i link, quindi scusatemi per questo piccolo problema e vedrò come posso fare per sistemare, per il resto ragazzi nei nuovi video ci sarà solo il link della pagina di Instagram che casualmente fa solo quella là, quando andrete a cliccare sulla pagina di Instagram troverete anche il mio link del canale YouTube, quindi perdonatemi e grazie ancora. Grazie